Nuovo confronto al tavolo della Prefettura di Nuoro, Corregione, Provincia, Arpas, Consorzio Industriale di Macomere e Tossilo S.p.A. per fare il punto sulle autorizzazioni tecnico-amministrative necessarie per favorire il riavvio degli impianti di compostaggio e di termovalorizzazione della Tossilo, passaggio necessario per scongiurare rischi ambientali e ulteriore sofferenza economica sul territorio. A coordinare il tavolo a cui ha preso parte anche l'assessore regionale all'ambiente Marco Porcu, il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi. Un ringraziamento particolare lo devo sicuramente dare all'assessore Porcu, all'assessore all'ambiente, per la fattiva collaborazione e le risposte date. Si prevede uno stanziamento della regione che garantirà alla Tossilo quegli interventi di manutenzione straordinaria necessari a mettere in funzione, a riavviare anzi l'impianto di compostaggio, prima dell'estate, in modo da consentire ai comuni del nord della Sardegna di poter conferire i rifiuti organici a Macomere. Per l'impianto di compostaggio ci sono delle risposte, invece per il termovalorizzatore a che cosa si è giunto? Le procedure autorizzative sono decisamente molto più complesse, comunque ho potuto mostratare un impegno sia di Arpas che della provincia, che dello stesso consorzio di Macomere a lavorare su questo aspetto e esaminare tutta la documentazione che serve per questa autorizzazione. Diciamo che oggi abbiamo fatto un bel passo in avanti sul tema ambientale, dopo che stamattina mi è arrivata la positiva notizia che anche il tema relativo ai lavoratori si sta concludendo positivamente perché entro pochi giorni verranno pagati tutti gli arretrati ai 26 dipendenti della Tossilo.